Il vero pastore, il vero cristiano, non ha paura di sporcarsi le mani con i peccatori, di rischiare anche la sua fama perché ha il cuore di Dio che vuole che nessuno si perda. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando le due parabole della pecora smarrita e della moneta perduta inserite nel Vangelo del Giorno. I farisei e gli iscrivi si scandalizzano perché Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. Era un vero scandalo a quel tempo per questa gente, ha osservato il Papa. E' triste il pastore che apre la porta della Chiesa e rimane lì aspettando. E' triste il cristiano che non sente dentro del suo cuore il bisogno, la necessità di andare a raccontare agli altri che il Signore è buono. Il vero pastore, il vero cristiano ha questo zello dentro. Nessuno si perda. E per questo non ha paura di sporcarsi le mani. Non ha paura. Va dove deve andare. Rischia la sua vita. Rischia la sua fama. Rischia di perdere la sua comodità, il suo status. Anche perdere nella carriera ecclesiastica pure. Ma è buon pastore. Questi scrivi farisei non sapevano cosa fosse caricare sulle spalle la peccora. quella tenerezza. E riportarla con le altre al suo posto. Questa gente non sanno di gioia. Il cristiano, il pastore a metà cammino, forse sa di divertimento, di tranquillità, di certa pace, ma gioia. Quella gioia che c'è nel paradiso, quella gioia che viene di Dio, quella gioia che viene proprio di cuore di Padre che va a salvare. Ho sentito i lamenti degli israeliti e scendo in campo. Questo è tanto bello. Non avere paura che si spargli di noi per andare a trovare i fratelli e le sorelle che sono lontani dal Signore. Chiediamo questa grazia per ognuno di noi e per la nostra Madre e la Santa Chiesa.